Signori bentornati in un nuovo episodio di Resident Evil 3 Remake Siamo nei panni... perchè Giglio ha la bocca aperta? Ehi, raso di moschetti Allora, nell'ultimo episodio abbiamo visto il signore qua, il proprietario del negozio di armi che abbiamo anche conosciuto su Resident Evil 2 Remake Adesso abbiamo preso le chiavi, siamo un pochino potenziati abbiamo le chiavi del cancello che si trovava nel vicolo qui a destra appena usciamo dal negozio questo qui In teoria dovremmo proseguire da questo cancello e vediamo cosa ci aspetta Guarda lì, questo è l'edificio in fiamme da cui siamo scappati dal Nemesis Porca puttana si è fatto bene, buon uomo Allora, apriamo, apriamo il lucchetto con grande stile Allora, la pianta mi serve... Oh cazzo Possiamo evitarlo? Sì che possiamo, perchè siamo dei pro player, se no non potevamo Ok, adesso sperando che non entra in casa, siamo su un appartamento, sempre centro città Ah, c'è il coso, quanto è bella questa ambientazione Non ho portato il coltello Oh cazzo Ma come se lo protegge? Eh vabbè, ma che cazzo sei? Se si pure si protegge il coso Oddio, ma oh, ma hai rotto i coglioni Ma tu guarda, come ferirsi così Mamma mia, è brutto il fatto che ci siano ste robe qua Grimaldello Vediamo se trovo sempre i colpi bomba, perchè due ne ho aperte e sempre i colpi bomba c'erano Munizioni esplosive Vabbè, comunque si vede che è una cassa militare, sempre munizioni ci sono E c'è una nota di giornale Qua, lettera dell'editore di Rackon Time Gentile editore, le scrivo per portarle all'attenzione un importante problema Chiunque abbia un figlio sa bene che deve guardar sti video di Slega Pogrago e mettere mi piace e supportarlo, no? Perchè non lo supporta mai nessuno Potrebbe farsi male seriamente, vabbè sti cazzi Bene, niente di interessante in questa nota Ok, non ci resta che proseguire E qua c'è il buon uomo E io come cazzo lo atterro questo, scusami Sai che ti dico? Ma fa' a cura Eh sì, ma allora sei proprio stronzo, dai, che due coglioni Ok, possiamo uscire di qui Mamma mia Bello, Resident Evil 3 comunque è ambientato proprio così Siamo in città, con tutta l'epidemia che esplosa Adesso abbiamo la pianta rossa e non abbiamo quella Ti prego, non me lo dire Ma che cazzo Oddio Ma che cosa mi stai dicendo? Aspetta che faccio mirare lo zombie Bravo, mira qui No, non l'ha preso Aia Ci muoio, raga Ci muoio Ci muoio Ma dai, raga Non è possibile questa storia Non è possibile sta storia, raga Sto morendo Ma sarà tutto il gioco così a scappare da un Nemesis Oh cazzo Vaffa culo Ma dai, ma veramente Oddio, sono morto Dai cazzo, Jill, reagisci Vedi, esce lì le tette Magari si convince Non è per noi perché le vogliamo vedere Ah no Ci mancherebbe Ok, siamo messi Tipo Tipo una merda Oh Che culo Questa è una santa cosa Usa lo spray Ah, ci voleva Ah, i colpi ce li abbiamo L'unica cosa era la vita Ma non ci siamo curati del tutto Perché cammini ancora così Ah, penso che è proprio la parte del gioco Che siamo feriti In preda al panico E quindi Jill si comporta così Ok, saliamo Molto figo sto Resident Evil 3 Vi giuro che mi sta piacendo proprio un sacco, raga Proprio bello Guarda dove siamo Torna alla stazione Eh, di qui dovrebbe esserci l'altro passaggio Ma è bloccato Devo per forza passare di qui Ah, posso andare a sinistra Ok Questa ci siamo già passati Solo che dall'incendio ci sono molte strade ormai bloccate di nuovo Ma noi qui avevamo fatto tutto Questo era eventualmente Ci dimentichavamo qualcosina Avremmo avuto nel gioco la possibilità di recuperarla a sto punto Quindi noi dobbiamo andare Ah, che filmatino Ecco qual è il negozio di giocattoli Ecco qual era appunto Ma veramente? Sta morendo Cioè io muoio così Allora diciamo che Diciamo che sta animazione Potevano evitarla Dai Non è possibile che una testa Vada avanti così Cos'è? Eh, vabbè Eh no raga Non ce l'ha Non ce l'ha Non si può fare Vai chiuso Ah caga Oddio Vai 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 Lui non Porca puttana Carlos Per cortesia aiutami Carlos Quanto cazzo corri tu Dai Jill Mamma mia Ma quanto è figo Mamma mia il Nemesis Fa la cazzo Oh cazzo Andiamo via Andiamo via un cazzo Dove siamo? Vai alla banchina della metro Eh, fammi capire vedere una cosa No, qua non c'è nulla Andiamo, andiamo Carlos Sono dietro di te cazzo Mamma mia Spettacolare raga Sto gioco Quanta azione Quanta frenesia Carlos So che abbiamo iniziato con il piede sbagliato Ma Grazie Beh Adesso siamo pari Sei molto più coraggiosa di me Quello che conta è che ora possiamo portare via tutti dalla città Sarai ragazzi E qua se saliamo penso siamo sopra Non vorrei che mi dimentico qualcosa Aspetta aspetta Mi tolgo il dubbio raga Un attimo Quanto vedo se qua sopra Sì Ok Il dubbio è tolto Siamo Dove c'è la Sebrum Qua è dove abbiamo raccolto il giornale del Play Cannibali Non partirò con voi Perché? L'ordini dal lato Ma se serve a salvare la città Resto politieri Bravo Carlos Sei uno a posto Brava mi piace Dai che forse a fine gioco te la do Dai Tutto pulito qui Ah stiamo ritornando per dentro all'inizio Dove c'era il treno e il capitano Che era Era stato morso Ottimo lavoro Sei davvero brava come dicono Vai dentro ora Il treno sta per partire Carlos Steyrell Conoscete i vostri ordini Dovete tornare in città e trovare Nathaniel Bard Questo viaggio non è di sola andata Vero? Sta tranquilla Quando i civili saranno in salvo Il treno tornerà Non preoccuparti Tu vai Non ho nessuna intenzione di morire Lo so che non vuoi stare senza di me Sì Dovete trovare questo scienziato Le sue ricerche sul vaccino potrebbero salvarci Lo vedi? Stai imparando Figlio di puttà Non so la cosa che conta è la tua vita Buona fortuna Non lo so Mi puzza sta roba Mamma mia 29 settembre Alle 2.11 Carrozza del treno Non crederei davvero Che quella testa d'uovo di Bard Sia ancora vivo Vero? Ho buoni motivi per pensarlo Che c'è? Sei preoccupato per i tuoi compagni? O c'è dell'altro? Guarda come osserva Jill Come ha fatto il blotone a cadere nell'imboscata di quegli stupidi zombie? Strano che il caccello fosse chiuso Non è vero? Cos'è stato? Ma dai Ci sono degli esplosivi No Dai ma è proprio un pezzo di mer Capitano Capitano Mamma mia Mamma mia Attenzione Colpo di scena E ora La domanda è dove cazzo siamo Della cosa Nel cancello ovest Della stazione Guarda lì Ma quindi siamo di nuovo nella stazione di potenzia Minchia la conosciamo a memoria Ah ma siamo 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 Ah questo è il cimitero che si fa con Claire Nella nuova partita Quando si completa il gioco Io avevo testato E partivi da qui Poi da qui ci colleghiamo All'uscita dove si schianta l'elicottero Sempre su Resident Evil 2 Oh Marvin Ah Ha parlato ed ecco come è stato morso Quindi Resident Evil 3 è comunque prima Ma guarda Nel 2 Marvin ci diceva Non fidarti Questo è Brad Quello che è stato morso all'inizio Guarda Oh ma è una merda sto coso Guarda i colpi li devo È che io mi ero in testa Fa culo L'hai aperta E questo è il cancello principale Mamma mia raga È fantastica sta roba Cos'è aveva dei colpi Guarda Fred Per accedere magari a qualche ufficio degli star Guarda qui Un tesserino di un membro delle PD C'è scritto special tag E ci sono delle forze speciali comunque Gli star Ah abbiamo pure la pistola Dov'è quello spiro Wow Wow Non mi interessa Abbiamo del lavoro da fare Se le informazioni sono corrette Bard è nell'ufficio degli stars Troviamolo e prendiamolo in custodia Custodia? Non dovevamo salvarlo Quindi questo è quello che è successo Cosa devo vedere? Ho localizzato l'ufficio degli stars Ricorda Bard conosce molti dei segreti dell'ombrella Sa che non lo lasceremo andare facilmente Quindi ricerche e soccorso È diventato snidare e catturare Bene Buono a sapersi Ok quindi dobbiamo andare lì Negli uffici stars C'era lì che il resbole 2 Questa qui è controlla che succede alla centrale Ti contatto se scopre qualcosa Va bene E qua si apre il coso Quindi Resident Evil 3 è ambientato prima del 2 Quindi prima che Leon venisse qui E abbiamo visto nel 2 Marvin Il polliciotto che è stato ferito poco fa Ci diceva non avere esitazione A sparare anche se fossero dei tuoi amici Tipo non fare come ho fatto io E qua si vede che lui appunto poteva spararli Ma siccome ha parlato quello zombie Comunque strano E quindi è stato morso C'è mamma mia raga Bellissima Bellissima sta roba Cioè già mi piaceva Ma dopo questa Comunque qui c'è qualcosa C'è una pianta verde L'unica cosa che non mi piace è questo assalto Che è una merda Che nell'altro principale sotto non c'è niente Vediamo se sopra c'è qualcosa Sì L'estate Questo significa che qua Non dobbiamo fare la stessa cosa di Resident Evil 2 Mamma mia raga Io per chi magari vede solo questa serie Per chi la sta seguendo Vi consiglio sempre di andarvi a vedere la serie di Resident Evil 2 Perché è bella pure quella Bellissima pure la serie di Resident Evil 2 Quindi Io ve la consiglio Che cazzo di porteranno qui Ignorale Siamo qui per balle Vedi? Belle ste cose Porte di Di cosa Di picche Che queste cose le abbiamo Tutte fatte sul Sul 2 Sul remake del 2 Tanta roba a ritornare per me Qua alla stazione di polizia Mi c'ero affezionato a questo posto Non è l'unico posto dove si svolge Diciamo Resident Evil 2 Però è uno dei più iconici Beh se non il più iconico Perché comunque principalmente Sei qui Anche se poi vai dalle fogne Vai sul laboratorio dell'ombrella Però comunque Non vi voglio spoilerare Quello che succede sul 2 Dato che a sto punto È il sequel praticamente Comunque dobbiamo andare di qui A cercare Brad L'ufficio Cioè abbiamo la tessera di Brad Quindi possiamo fare Qua c'è una cassa che non c'era Ci vuole qualcosa Posso usare questa Oh Con la tessera degli star Proiettile calibro 5.56 Per l'assalto E una nota Utilizzo dei badge Che sono cassette di sicurezza Ok Si prega di notare Di evitarne proprio in caso Ok Va bene Quindi sappiamo Che queste cassette di sicurezza Le possiamo Guarda lì Sono dei colpi Che non posso raccogliere Da questo lato Quindi siamo di nuovo Alla centrale Ufficialmente Abbiamo 184 colpi Dell'assalto Ma noi andremo Guarda qui Ancora si sparano Il leaker Quello lì era Quello che Nel 2 Trovavamo questo poliziotto E c'era quella scena No Controllavamo il viso Di quel poliziotto Ed era tutto tagliato Da qualcosa Che non sapevamo Che poi sono i leaker E qui Ecco come ci è finito Appeso Questo era il dubbio Della vita Fantastico Camminiamo piano Perché conosciamo bene I leaker E sappiamo che i leaker Sono ciechi Ma sentono bene E bisogna camminare E andare piano Adesso qui È tutto libero Non so se mi conviene Sparare Ok Oddio Vai 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 Oh cazzo Eh aspetta Di qui si poteva passare Da lì Ma non è ancora sfondato Qua c'è qualcosa Sì c'è qualcosa Eh Sì cazzo Eh Qua si può aprire Ok si passa Dall'altro lato Però fammi dare un'occhiata Perché in questa stanza C'è qualcosa Non so che cosa Ah eccolo Cos'è Granata stortente Mai trovate per adesso Ok ce l'abbiamo Questo resta a terra Dietro di lì c'è uno zombie Eh in teoria Non potevamo proseguire Quindi c'era il muro Abbiamo fatto tutto bene Dobbiamo andare di qui Qua siamo Eh Non so dove cazzo siamo Ma qui è dove c'era L'indizio della lavagnetta Intanto abbiamo trovato 20 colpi Vedi capo Si aggira una strana presenza Non so cosa sia Una strana presenza Ok Controllo con le telecamere Sta attento Grazie VRO Grazie Qui non abbiamo più niente Porta di cuori Queste dobbiamo Prediente ignorarle Vedete nel gioco Non sono proprio segnate Queste porte Qua possiamo aprire Dall'altro lato Fantastico Fantastico Oh cazzo Oddio Ma lui ha un attacco diverso Dagli altri Quindi sono 4 zombie Carica Ricarica 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 Tanto non so Se saremo per tanto tempo Carlos Tanto vale Usufruire dell'assalto Oh cazzo Sono scarico Eh si Sono un coglione Vaffanculo Un pugno Dei nasche Volevo usare la pistola Questo è morto Vai Prendi la mira Ok non ti alzare Ce l'abbiamo una medicina Madonna Solo la pianta No 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 Resta morto No Resta morto Mamma mia Panico Il panico Proiettili Per l'assalto Ricarichiamolo Non avevo il tempo Prima Maria non ti alza Ok è morto È morto Perché se mi aggrappa È un casino È l'ultimo È tutto smitragliato Ma ancora cammina Sto strozzo Ok Ok Penso che è caduto Qui c'erano gli armadietti Della Mamma mia Si rialzano in continuazione Questa si può aprire Questa è chiusa Qui È chiusa Vediamo se la save room È uguale a quella del 2 Dai 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 Dimmi che c'è la save room qui Sì È uguale È uguale È uguale Siamo in una save room Godo Pianta rossa Godo Godo Combina Usa Ok 20 colpi Per l'assalto C'è una nota Circolare interna 22 settembre del 98 Circolare di trasferimento Fornitura ucciso La cassaforte ignifuga La combinazione è Ok Diparto di manutenzione Ok abbiamo la combinazione Di una cassaforte 9 15 e 7 Qua possiamo accendere la luce Qua è dove mettevamo Non penso di voler fotografare quelle cose Ok vedete qua Sul 2 Prendiamo delle foto Dei rullini Troviamo Che portavamo qui Per vedere l'indizio Mi farei un salvataggio Ok Ora che abbiamo salvato Siamo sicuramente più tranquilli Devo controllare Se sugli uffici Posso Il problema è Sti cazzo di zombie Che sembrano Infiniti E si alzano in continuazione In teoria dovrebbero essere morti Tutti qui Oh quasi Si è rialzato Ok Vediamo se qui si può entrare Perfetto Qui c'era una cassaforte Oh qua possiamo usare la cosa Dammi dei colpi Per cortesia Ho qualcosa di utile Cos'è? Mirino telescopico Per fucile d'assalto Ma non ci crederò mai Fammi vedere Bellissimo Ora miriamo solo in te Mamma No vabbè E OP Carlos Colpi per la pistola Che dovremmo usarla Allora quindi 9 15 7 15 7 Se mi ricordo bene Si Si l'ho aperto L'ho aperto Ok mi ricordo bene La torsello Altri due slot Tattici Che ci faranno Sicuramente comodo Ma ancora qui Qualcosa c'è Qua c'è un armadietto Vediamo se si apre anche qui Godo Proiettili 10 colpi Per l'assalto E c'è ancora qualcosa Qua c'era C'erano tutti i nomi Verbale d'arresto 20 settembre Nome Redney Gray Disoccupato Ed era un ex elettricista L'imputazione E fabbricazione Possesso illegale Di esplosivi Attenzione In data 18 settembre Del 98 Il sospetto È stato individuato Nelle vicinanze Di 1442 box Avvenuta la perquisizione È eseguito il ritrovamento Di una modesta quantità Di esplosivo E di un detonatore A tempo È stato dichiarato L'arresto In casa del sospetto Sono stati inoltre Rinvenuti Più di 20 esplosivi Artigianali Ancora in fase Di realizzazione Il sospetto Era estremamente agitato Ed evidente Stato confusionale Le risposte fornite Durante l'interrogatorio Erano prive di senso Ed è stato necessario Sospende la sessione In seguito di un improvviso Un ombrello rosso e bianco Rosso e bianco Devo distruggerlo Nessuno si salverà L'ombrello rosso e bianco Ovviamente è il logo Della ombrella Stanno arrivando Manca poco Dobbiamo sbrigarci Bruciateli I morti devono essere bruciati Bruciate Il sospetto Ha poi iniziato a gridare E tremare violentemente L'interrogatorio È stato nuovamente sospeso È stato dato un sedativo L'esplosivo confiscato Sembra essere estremamente potente La batteria del detonatore È stata rimossa In misura precauzionale È depositata nella prova Questa Non so se andremo a usare Questo esplosivo Ma era tipo Forse lo stesso esplosivo Che abbiamo usato Nel 2 Con la batteria Il detonatore Roba così Che c'era il C4 Che ci serviva Per aprirci L'accesso A prendere la statua Altri colpi Mamma mia Oh ma siamo proprio Messi da Dio Quindi qui Tutte le porte di quadri Di fiori Di picche Che nel 2 Aprivamo con la chiave Qui non possiamo Però c'è l'arm Là dove c'erano gli armadietti Le stanzi armadietti Qua è chiuso Porta chiusa Odio sparare ai poliziotti Eh cagare Qua c'era una donna Nel 2 Qua no Ok Noi dobbiamo andare Negli uffici star Che si va di qui Ma cosa succede Se saliamo al terzo piano 100 euro che si alza Invece no Qua c'erano dei colpi Nel 2 Qua no Però c'è Oh cos'è Chiave Non mi dire Che è la chiave Degli armadietti Deseaminiamola Una chiave Chi apre la porta Della stanza Degli armadietti Adesso ce l'andiamo ad aprire Ce l'andiamo ad aprire C'erano qui Pianta verde Rigodo E Quale cazzo era qua Io non me lo ricordo Dal 2 Ma può essere qua Che adesso è qui Quello cap Potremmo provare Era Dpm Dpm Mi pare che ce n'era uno Che era dpm Forse al contrario Dbm Dcm 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 Mamma mia Raga Che memoria Abbiamo aperto qui E qua c'era una stanza Ma qua è chiuso invece C'era un muro spaccato Nel terzo piano Oddio come ce la stiamo giocando Oddio Porca madonna Vabbè possiamo evitarlo Sti cazzo Rispermiamo Rispermiamo i colpi Rispermiamo i colpi Non è un problema Noi dobbiamo andare di lì E forse sarà un problema dopo Oddio Buon uomo Eh perché devi scassare i coglioni qui Però Buon uomo Lei ce la fa A rimanere morto per un po' Fammi un critico Perché non lo fai mai Carlos Sei un po' Una persona di merda Ma buongiorno Apri Dimmi che non barcano le porte I leaker Perché sennò è un casino Dai Madonna Ti prego Ti prego Ti prego Non me ne dare più di uno Ok E' uno E' uno E' uno Possiamo farlo Riprendiamo la pistola E manteniamo la calma Dove cazzo stai passando Ehi Hai rotti i coglioni Oh Critico Allora Fammi vedere Qua c'è una bambolina Partiamo da questo E abbiamo una pianta verde Che combiniamo con la rossa E abbiamo una cura Questa possiamo scartarla Liberiamo uno slot E' tutto questo Perché cosa serve Nella sala armadita Qua ci sono i cosi Che possiamo prendere Ma ci sono i tasti O li dobbiamo riprovare Minchia Mancano di nuovo i tasti Sempre il 2 e 3 Quindi possiamo fare 1 0 4 1 0 6 1 0 9 Qua sono tutti col 2 iniziali Quindi nessuno di questi 1 0 4 1 0 6 E 1 0 9 Possiamo farlo Bene Questi sono gli unici Che potevamo aprire Per il momento E abbiamo trovato Una batteria Coso Sì che sei mia 30 colpi d'assalto E una granatozza Vieni da papà Vieni da papà Figlio di puttana DCM Vabbè Ce lo ricordavamo Dal 2 Meno male che è rimasto uguale La mia memoria Dunque ha il suo grandissimo Perché Tutta quest'aria è libera Possiamo procedere Verso gli uffici della star Non dimentichiamo Che c'è il leaker E io salverei Onestamente Figlio di puttana Allora Poserei 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 La batteria me la porto dietro Perché potrebbe sempre servire La granata La poso Ma anche la storde Anzi la storde No che con il leaker Mi sento più sicuro Avendola Facciamo pure le medicine Salvataggio Che dire signori Noi per questo episodio Direi di salutarci qui Con Carlos E sto gioco Sta diventando qualcosa Di allucinante E noi ci vediamo Nel prossimo episodio Dove andremo avanti Nella stazione di polizia Ciao bene fine Alla prossima Ciao bene Ciao Ciao Ciao